Scrivi le equazioni delle tangenti all'ellisse di equazioni x quadro più 9y quadro uguale 25 parallele alla retta di equazione 4 terzi x più 3y meno 1 uguale 0. Altro problema, ancora diverso rispetto agli altri. Qui ci danno la solita ellisse che volendo poi andiamo a disegnarci e poi ci dicono che vogliono le tangenti, quindi saranno più di una. Questa volta non ci danno il punto da cui sono condotto, non ci danno ellisse in forma canonica e il punto dal quale partono le tangenti per ottenere le equazioni cartesiane delle tangenti. Ma ci forniscono però, che cosa? Beh, ci forniscono la retta, le parallele alla retta. Dunque, un attimo, io vi ricordo che la retta, la tangente, ovvero una retta qualsiasi, di equazione y uguale a mx più q. Cosa vuol dire? Che in questo caso io, l'inconita, chi sarà? Sarà q. Perché m io lo posso determinare? Perché, ovviamente, cosa conviene fare? Conviene da questa retta, che poi vedremo su George, insieme alle altre due, mi posso determinare il coefficiente angolare. Come faccio? Vi ricordo che m di una qualsiasi retta, dove la retta è scritta in forma implicita cartesiana, ax più by più c uguale a 0, vi ricordo che m è meno a fratto b. Ve lo ricordavate? Beh, se non ve lo ricordavate, ve lo dico io. a è 4 terzi, b è 3, meno 4 terzi diviso 3, che vuol dire meno 4 terzi per un terzo, meno 4 noni. Vuol dire che meno 4 noni sarà il coefficiente angolare delle mie rette tangenti, che ovviamente avranno due intercette q differenti. Andiamo a scrivercela allora alla nostra retta. E siccome applichiamo il primo metodo, quello classico, intersechiamo la nostra ellisse con la retta y uguale meno 4 noni x più q. Dobbiamo sempre risolverlo nel suo modo, imponendo che il discriminante sia nullo, perché parliamo di tangenti, però attenzione che l'inconita stavolta è q. E questo è il modo per farlo. Tra l'altro esistiti che abbiamo già visto anche nei capitoli sulla circonferenza e sulla parabola. Allora, io da qui vi andrei a struire la y nella y dell'ellisse, ottenendo x quadro più 9 che moltiplica. Dobbiamo fare il quadrato di meno 4 noni x più q, quadrato di un binomio. viene un 16 ottantunesimi di x quadro più q al quadrato, il doppio prodotto è un meno 8 noni q per x, perché ho fatto meno 4 noni x per q per 2, è il doppio prodotto che fa meno 8 noni q per x. uguale a 25. Moltiplichiamo, otteniamo un x quadro, più 144 ottantunesimi di x quadro, perché 9 per 6, ci vi ricordo, fa 144, più 9 q quadro, meno 8 qx, perché 9 noni qua si semplificano, semplificano, sì, sarebbero, e ovviamente anche qui, 9 per 9 fa 81, quello lì è un 144 ottantunesimi, ovvero un 16, direttamente possiamo scrivere 16 noni, eh ragazzi? Potete dire che è già semplificato, ovviamente, no? 9 ottantunesimi e un nono, 16 noni per x quadro, 9 q quadro, meno 72 noni, appunto, meno 8 q per x, uguale a 25, moltiplico per 9 da una parte all'altra, e ottengo che, vediamo qual è l'equazione risolvente, 9 x quadro, più 16 x quadro, è un 25 x quadro, direttamente scrivo così, in questa equazione risolvente, imporrò che il discriminante sia 0, 25 x quadro, poi ottengo un, guardate, meno 72 q per x, il termine noto sarà 81 q a più 81, q al quadrato, meno, perché 25 alla sinistra diventa meno 25, è 9, per 25 è un, 200, quindi meno 200 è 25, tutto quanto uguale a 0, delta quarti uguale a 0, non delta uguale a 0, in quanto il coefficiente che moltiplica il termine x, è un numero, è un numero pari, quindi devo fare in pratica un meno b mezzi al quadrato, meno ac uguale a 0, dove a è 25, b è meno 72 q, c è 81 q quadro, meno 12 è 25, meno b mezzi vuol dire fare, dunque la metà di statunque è 36, quindi devo fare un 36 al quadrato per q al quadrato, e vi dico subito che il quadrato, 36 è un 1200, 1000, non riesco neanche a scrivere, 1296 q al quadrato, dunque meno ac vuol dire fare, meno 25 per 81 q quadro, e un meno 2.025 q quadro, più, devo fare 225 per 25, che fa, ovviamente 5.625, tutto questo uguale a 0, delta uguale a 0, mi viene un'equazione di secondo grado, pura in q, allora, attenzione non ho detto una parolaccia, 1296 meno 2.025, e un meno, viene un meno, 729 q al quadrato, mamma mia che numeri, ci vogliono fare del male qua, meno, 729 q quadro, viene uguale a, meno 5.625, vediamo da quanto fa, terminate i meno, q al quadrato viene 5.625 diviso 725, 729, basta fare quindi che q è uguale a più o meno, radice di 5.625 diviso 729, dunque la radice di 5.625, vi dico essere 75, quindi q è più o meno, 75, la radice di 729, dovrebbe essere 27, può essere, vediamo se mi ricordo bene, e sì, ve lo confermo, 27 al quadrato è 729, tra l'altro, si può dividere per 3 entrambi, e viene più o meno, 25 noni, quindi, in un caso q è meno 25 noni, nell'altro caso q è 25 noni, se lo mettiamo lì, otteniamo le due rette tangenti, che tra poco, vedrete, entrambe parallele alla retta, quella che ho cancellato, 4 terzi x più 3y meno 1, cioè avente coefficiente angolare pari a meno 4 noni, quindi, t con 1, dunque, su GeoGebra, sì, t con 1 è quella sotto, t con 1 è un y uguale, meno, o 4 noni x, meno, 25 noni, mentre t con 2 è y uguale, meno 4 noni x, più 25 noni, vedete che le due intercette sono, le due simmetriche, rispetto all'asse delle ascisse, entrambi di coefficiente angolare pari a meno 4 noni, le potete vedere, entrambe su GeoGebra, tangenti alla mia ellis, ed equazione x quadro, più 9 y quadro, uguale a 25, con in mezzo quella retta, y uguale, quella retta 4 terzi x, più 3 y, meno 1 uguale a 0, che se voleste, se uno volesse scriverla in forma esplicita, la scriverebbe come y uguale proprio a meno 4 noni x, più 3 quarti, infatti l'intercetta è, cioè l'intercetta è che l'asse y è punto 0 tre quarti, e poi potrebbe, se volete, calcolate anche l'intersezione con x, il punto 1 zero, invece l'intersezione di quella retta lì, con l'asse delle ascisse. Siamo tornati, io non lo rappresentate qua, ma in questo caso, questo è un altro modo alternativo, ci danno in pratica una parallela ai tangenti, stesso modo si intese che la parallela generica con cui incognita con la mia ellisse, si impone che il detto è uguale a 0, alla fine si trova la soluzione a cui siamo arrivati. Ciao a tutti!